Walt Disney ha già creato un capolavoro tra i più amati di tutti i tempi. E ora... L'avventura continua! Con Lily e il Vagabondo 2, il Cucciolo Ribelle. La storia di un cucciolo che non ha paura di inseguire i suoi sogni. Ma avrà bisogno dell'aiuto della sua nuova amica Angel. Insieme si lanceranno in un'avventura indimenticabile. Ora il nostro cucciolo deve scegliere tra una vita a randagia e una casa con la sua famiglia. È una storia che solo Walt Disney poteva far nascere. Un film completamente nuovo che catturerà per sempre il vostro cuore. Walt Disney è orgogliosa di presentare Lily e il Vagabondo 2, il Cucciolo Ribelle.